L'ANAS col suo ritardo sta condannando a morte la Calabria perché isolare la nostra regione proprio nel periodo estivo equivale a mettere in ginocchio l'intero comparto turistico e quindi la sua economia. Chi si avventurerebbe in Calabria sapendo di dover attraversare una strada infernale che con le calde giornate estive diventa anche rischiosa. Pochi, pochissimi le conseguenze si possono ben immaginare senza avere la sfera di cristallo. Il procuratore generale di Catanzaro, Raffaele Mazzotta, titolare del fascicolo sul sequestro del viadotto Italia della Salerno-Reggio Calabria, ha detto chiaro e tondo che sulla messa in sicurezza del pilone 13 non si può intervenire perché l'ANAS non ha ancora depositato il progetto. Nel frattempo l'ENTA ha anche elaborato un progetto per un intervento di rinforzo e riparazione provvisoria che permetterebbe di abbreviare i tempi di apertura al traffico senza compromettere la possibilità di eseguire l'intervento di riparazione definitivo. La realizzazione di tale intervento, abbinata all'esecuzione di prove di carico statiche e dinamiche sull'impalcato, consentirà la riapertura al traffico della carreggiata Nord entro circa 40 giorni dell'autorizzazione della Procura. L'ANAS ha anche avviato tutte le indagini interne per valutare la quantificazione di eventuali danni subiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel crollo della campata. Insomma l'ANAS, che ha avuto tutto il tempo per elaborare un progetto, non l'ha ancora fatto o magari l'ha fatto e lo tiene in un cassetto e scarica la patata bollente nelle mani della Procura che dovrà poi dare il via libera entro 40 giorni.